Benvenute e benvenuti. Questo video è dedicato all'analisi della filosofia di Arthur Schopenhauer e in particolare al tema della volontà. Di Schopenhauer ho già cominciato ad occuparmi nel video precedente dedicato al velo di maglia. Riassumiamo brevemente il punto a cui siamo giunti. Allora, la filosofia di Schopenhauer è indubbiamente una delle più emblematiche incarnazioni filosofiche della reazione ad Hegel e alla sua filosofia, che per adesso chiamiamo egelismo. Una reazione molto forte è un clima generale diffuso che più o meno cogliamo in vari vettori principali intorno alla metà dell'Ottocento. La filosofia di Schopenhauer ha delle caratteristiche particolari, cioè si configura come un mix di elementi eterogenei e molto distanti a livello filosofico e culturale. Abbiamo degli elementi che risalgono a Platone, altri che risalgono a Kant, altri che risalgono all'illuminismo, altri al romanticismo e abbiamo inoltre, grande novità nel panorama culturale dell'epoca, degli elementi che possiamo far risolvere all'induismo e in generale alla tradizione orientale. Quindi la filosofia di Schopenhauer è un patchwork di tanti elementi eterogenei e differenti tra loro. L'opera principale di cui noi ci occupiamo è quella intitolata Il mondo come volontà e rappresentazione, la prima edizione è del 1818. Allora, secondo quest'opera, al modo in cui l'abbiamo analizzata nel video precedente, il mondo è per Schopenhauer un insieme di fenomeni, fenomeni in senso kantiano, cioè ovvero sia un insieme di apparenze, cioè ciò che risale a un sistema percettivo prettamente umano. Queste apparenze però, sebbene abbiano degli echi kantiani molto forti, sono anche qualcosa di differente, sì, perché le apparenze sono per Schopenhauer delle illusioni, degli inganni. Il mondo, così come noi lo percepiamo, è un inganno, è un'illusione. Per indicare il carattere illusorio del mondo, così come noi lo percepiamo, Schopenhauer usa l'espressione velo di maia, presa dai veda, questa espressione, cioè dai testi sagri indiani, indica appunto il carattere illusorio, il carattere ingannatore del mondo, così come noi lo percepiamo. È un'illusione, è un inganno che copre, proprio come il velo di maia, la realtà vera, le cose come stanno realmente, ovvero sia il numero, ritorniamo sempre al termine kantiano. Ora, Schopenhauer, per indicare il carattere illusorio della nostra percezione della realtà, utilizza un termine filosofico molto specifico, su cui voglio fermarmi un attimo in questo riassunto, ovvero sia il termine è rappresentazione, lo troviamo già nel titolo, infatti è il mondo come volontà e rappresentazione. Allora, questo termine filosofico specifico utilizzato da Schopenhauer indica il carattere illusorio della nostra percezione della realtà. Il termine in tedesco è forstellung, forstellung, ovvero sia, letteralmente, un qualcosa che è posto, che è presentato, che sta di fronte a noi. La rappresentazione, c'è un eco in italiano di questo significato, no? La rappresentazione è un qualcosa che è presente, che è presentato, che sta di fronte a noi. Allora, la rappresentazione letteralmente è, in questo senso, ciò che ci è posto dinnanzi, ciò che ci è posto di fronte. Potremmo intendere la rappresentazione, nel suo carattere illusorio, come ci dice Schopenhauer, come una sorta di telo che ci è posto di fronte agli occhi e su cui vengono proiettate delle immagini, delle illusioni, delle apparenze. Ricorda un po' il cinema, il modo che vi sto proponendo di intendere la rappresentazione, no? Quando io mi siedo al cinema ho di fronte uno schermo e su questo schermo vengono proiettate delle immagini, dei colori. È realmente presente di fronte a me quello che io penso che sia di fronte a me? No, non è realmente presente, è un'illusione, è un'apparenza, è un inganno. E in questo senso io ho di fronte a me una rappresentazione cinematografica. Ecco, il cinema secondo me rende bene il senso di ciò che Schopenhauer intende con rappresentazione. Quindi il mondo è una mia rappresentazione, il mondo è un qualcosa che illusoriamente mi è proiettato di fronte. Ora, questa proiezione, cioè questa rappresentazione del mondo avviene secondo dei parametri. Questi parametri hanno il compito di dare credibilità a questa rappresentazione. Così come quando io mi siedo al cinema. Il film è coinvolgente e ha un buon risultato. Se io, per così dire, mi immedesimo e perdo la cognizione che si tratta di un'illusione, si tratta di un inganno, quello che ho di fronte, allo stesso modo il mondo come mia rappresentazione funziona meglio se è credibile, se io mi immedesimo. Ora, questa credibilità avviene secondo dei parametri di questa proiezione. Questi parametri sono, ovvero sia, le forme a priori. Le forme a priori sono i parametri di questa proiezione, di questa rappresentazione e sono, secondo Schopenhauer, lo spazio, il tempo e la causalità. Lo spazio, il tempo e la causalità sono i parametri della mia rappresentazione che danno coerenza a questa rappresentazione. Quando io percepisco il mondo che ho di fronte, mi aspetto che un oggetto che vedo a 5 metri di distanza, muovendosi a una certa velocità, arriverà prima a 4 metri, poi a 3 metri, poi a 2 metri. Mi seguite? Allora, quell'avvicinamento è una, per così dire, coerenza interna di una rappresentazione che è in movimento. Se vedessi che quell'oggetto che è a 5 metri di punto in bianco mi riappare a un metro, senza aver avuto dei passaggi intermedi, a quel punto potrei essere stupito e potrei dire come è possibile che è successa questa cosa. Quindi vuol dire che la rappresentazione del mondo, così come avviene, ha dei parametri di coerenza che sono spazio, tempo e causalità. Quindi, riassumendo e concludendo il riassunto, il mondo è una mia rappresentazione, è una mia illusione, è una parbenza, è un inganno. Questo inganno esiste veramente? Sì, esiste veramente, ma nella mia mente, dentro di me. Non esiste realmente ciò che io chiamo mondo, ma esiste piuttosto una mia rappresentazione di ciò che io intendo che sia il mondo. Quindi è molto importante che noi prendiamo questo concetto di mondo come illusione e lo collochiamo in quella che forse impropriamente possiamo chiamare una zona detta mente. La mia rappresentazione è una mia illusione, non è detto che esista veramente ciò di cui io mi sto illudendo. Allora, siamo arrivati a questo punto. Bisogna forse adesso un'altra domanda invece, che è la domanda che muoverà alle riflessioni di questo video. Cioè, ovvero sia, è possibile squarciare il velo di maia? È possibile andare al di là di questa illusione? È possibile trovare il passaggio segreto? Proprio così si esprime Schopenhauer. Il passaggio segreto che ci possa condurre alla realtà vera, ovvero sia al numero? Possiamo passare dal fenomeno al numero? Secondo Schopenhauer, sì, è possibile, esiste un passaggio segreto. Come possiamo cogliere questo passaggio segreto? Allora, seguitemi nel ragionamento, è molto interessante quello che ci dice Schopenhauer a questo proposito. Allora, se noi fossimo, se noi umani, ognuno di noi, fossimo semplicemente rappresentazione, non ci sarebbe per noi alcuna possibilità di fuoriuscire dal regime della rappresentazione. Cioè, se noi fossimo indissolubilmente legati all'orizzonto della rappresentazione, non potremmo ovviamente in nessun modo uscirne fuori. Ma noi non siamo solo rappresentazione, noi siamo anche corpo. Che cos'è il corpo? Ecco, è interessante che nella filosofia del 1800 comincia a far irruzione questo concetto di corpo che viene inteso in un modo molto diverso da come veniva inteso prima. Sì, perché se prima il corpo era semplicemente un elemento materiale che si accompagnava a un elemento spirituale, era per così dire il materiale, la carne, la struttura fisica di cui eravamo fatti, adesso invece il corpo con Schopenhauer diventa qualcosa di nuovo. Sì, perché il corpo è un elemento ulteriore rispetto alla rappresentazione. Noi infatti, dice Schopenhauer, come corpo ci viviamo da dentro. Che significa che ci viviamo da dentro? Significa che a volte nella nostra vita, noi possiamo attraverso il nostro corpo avere una sorta di esperienza di base, un'esperienza originaria. Questa esperienza originaria è quella che viene direttamente dal nostro corpo. Con la rappresentazione l'uomo è un essere conoscitivo, legato all'orizzonte della conoscenza, ma nella conoscenza vi è la rappresentazione e nella rappresentazione vi è l'inganno, vi è il velo di maia. Quando invece noi ci viviamo da dentro come corpo, noi recuperiamo una autenticità riguardo a noi stessi, recuperiamo una dimensione più originaria. Ecco, in questa dimensione più originaria, quando noi siamo semplicemente corpo e non siamo conoscenza, non siamo rappresentazione, lì vi è l'essenza profonda di noi stessi, l'essenza profonda del nostro corpo, l'essenza profonda del nostro vivere. Questa essenza profonda del nostro vivere è la radice numenica di noi stessi, cioè noi nella misura in cui siamo rappresentazione, siamo fenomeno, noi stessi siamo fenomeno, noi stessi siamo un'illusione. Con il corpo invece noi recuperiamo la radice numenica del nostro essere e questa radice numenica del nostro essere è, secondo Schopenhauer, la volontà di vivere. La volontà di vivere è il nostro numero. Noi nella misura in cui conosciamo il mondo siamo fenomeno, nella misura in cui ci viviamo da dentro come corpo noi siamo il numero, noi siamo volontà di vivere. Allora, il concetto fondamentale quindi che ci fa recuperare ciò che è nascosto dal velo di maia è il nostro corpo, ovvero sia la volontà di vivere. Che cos'è la volontà di vivere? La volontà di vivere è un impulso prepotente e irresistibile che ci spinge a vivere e ad agire per vivere. Potremmo dire che è una sorta di energia, è una sorta di tendenza, è un impulso cieco, originario, molto profondo, autentico, che ci spinge a vivere, ci spinge a sopravvivere. Il termine esatto che usa Schopenhauer per indicare la volontà in questo senso è vil zum leben, vil, volontà, zum, di, per, leben, vivere. Quindi la volontà di vivere è il fenomeno originario che costituisce l'essenza noumenica del nostro corpo, è ciò che sta sotto il fenomeno, è ciò che sta sotto la rappresentazione. È molto difficile darsi una piena raffigurazione di questo concetto così profondo, così importante per Schopenhauer, no? Ma vi basti sapere questa cosa, adesso la approfondiamo, che la volontà di vivere è il numero del mio corpo. Pensate questo, pensate magari se riduciamo la nostra esistenza a un'esistenza incentrata sulla conoscenza, sulla scienza, sul comprendere le dinamiche profonde del mondo, noi mettiamo che ci riduciamo a scienziati. Uno scienziato può comprendere tutto, la nostra esistenza può essere votata alla scienza, ma prima o poi noi dobbiamo spengere l'interruttore della scienza per dare da mangiare al nostro corpo, per dare da bere al nostro corpo. Cioè è come se a un certo punto il nostro corpo, per quanto noi possiamo essere perduti nei meandri della conoscenza, ci prende e ci richiama a terra, ci richiama a un terreno più originario, è il terreno che si esprime attraverso i nostri bisogni materiali, il mangiare, il bere, il fare una passeggiata, seguite? Allora, questi elementi sono elementi per Schopenhauer più originari della rappresentazione, sono ciò che ci richiama la nostra autenticità, ciò che ci richiama la nostra originalità, ciò che ci richiama la nostra radice numenica, il corpo, la volontà di vivere. La volontà di vivere è nient'altro questa energia che ci impone di prendere cura di noi stessi e del nostro corpo e di non farlo morire semplicemente, è un'energia molto profonda. Questa energia, questa volontà di vivere non determina solamente noi e quindi ognuno di noi, ma determina per così dire tutto il mondo intorno a noi. Questo forse è il passaggio più complicato. La volontà di vivere non è solo l'essenza o radice numenica del nostro corpo, ma è l'essenza o radice numenica dell'intero universo, cioè del mondo. Cominciamo adesso a comprendere ancora più a fondo il titolo dell'opera fondamentale di Schopenhauer di cui ci stiamo occupando, cioè il mondo come volontà e rappresentazione. Fino adesso abbiamo capito perché il mondo era rappresentazione. Adesso cominciamo a comprendere anche perché il mondo è anche volontà. Il mondo è volontà e rappresentazione. La rappresentazione è l'elemento fenomenico del mondo. La volontà è l'elemento numenico. Quindi il mondo ha un aspetto fenomenico, illusorio, che è quello che ci è offerto dalla nostra rappresentazione, ma anche un aspetto numenico più profondo, che è la volontà di vivere. Tutti gli esseri della natura sono pervasi da questa volontà di vivere. Non c'è un essere vivente che non sia animato da questa energia profonda che gli domanda semplicemente di sopravvivere, di continuare a sopravvivere. Tutti gli esseri della natura, ma non solo dice Schopenhauer, anche gli elementi inorganici, quindi non viventi della natura, sono ugualmente animati da questa volontà di vivere. La volontà di vivere ovvero è un'energia che pervade tutto e pervade tutto ciò che è vivo e tutto ciò che non è vivo. L'universo stesso, nella sua interezza, è pervaso da questa volontà di vivere. Di conseguenza la volontà di vivere non è solo l'essenza numenica del mio essere, del vostro essere, degli esseri, di tutti gli esseri viventi, ma è l'essenza numenica dell'intero mondo, dell'intero universo, comprendente sia la materia organica vivente sia la materia inorganica e quindi non vivente. È molto importante questo caso. Certo, tuttavia, l'universo nella sua interezza come volontà di vivere è pervaso da gradi diversi di consapevolezza. Alcuni gradi hanno una consapevolezza maggiore, cioè per esempio gli animali e in particolare l'uomo, che è l'apice di questa consapevolezza, altri hanno invece gradi di consapevolezza minore. Immaginiamoci, ne so, i microbi, gli esseri unicellulari e immaginiamo la materia inorganica inerte. Il grado di consapevolezza lì è al minimo, ma in ogni caso la volontà pervade completamente tutti quanti questi strati. che cosa significa intendere la volontà in questo senso? Che cosa significa intendere la volontà come una radice numenica che pervade l'intero universo? Pensiamoci un attimo, questo è molto importante, seguitemi in questo ragionamento. Abbiamo detto che io posso vivere la mia vita nella rappresentazione o posso vivermi da dentro attraverso il mio corpo. Quando io vivo il mio corpo, non so se vi capita a volte, non so, capitano delle situazioni in cui magari siete particolarmente in sintonia con il vostro corpo. Può capitare magari dopo un grande sforzo fisico, dopo un grande piacere, dopo un grande dispiacere, dopo manifestazioni molto forti del mio corpo, io posso trovarmi in una situazione di particolare sintonia con il mio corpo. Ecco, in quei momenti, direbbe Schopenhauer, sono sospesi i parametri della rappresentazione. Quali sono i parametri della rappresentazione? Abbiamo detto spazio, tempo e causalità. A volte io, in sintonia col mio corpo, non mi accorgo di quanto tempo passa, non mi accorgo più esattamente di dove sono. Può capitare che ne so, magari se prendiamo il sonno come momento di grande sintonia, può capitare che al momento del mio risveglio io ho dei momenti in cui non riesco a capire esattamente dove sono, che ore sono, quanto tempo è passato. Ecco, in quei momenti sono sospesi i parametri dell'illusione, sono sospesi i parametri della rappresentazione. In quel momento io mi riscopro come volontà. E questa è una cosa interessante. La volontà non è soggetta ai limiti della rappresentazione e siccome i limiti della rappresentazione sono spazio, tempo e causalità, la volontà non ha spazio, la volontà non ha tempo, la volontà non ha legami di causa e effetto con ciò che la circonda. Allora, questo significa che è sospeso quello che in filosofia viene chiamato il principio di individuazione. Che cos'è il principio di individuazione? È un principio molto antico nella filosofia, possiamo farlo risalire ad Aristotele. In realtà tutta la storia della filosofia è intessuta da riflessioni compiute dai più sbariati filosofi su tale principio di individuazione. Il principio di individuazione è un principio per cui tutto ciò che esiste ha una sua esistenza individuale. Ad esempio, io ho un'esistenza individuale che è diversa da quella di questo evidenziatore e che è diversa dalla vostra esistenza e dall'esistenza dello schermo che abbiamo di fronte. Questa differenza che noi dobbiamo dare per buona, secondo Schopenhauer, è una differenza che non compete alla volontà, è una differenza che risale semplicemente alla rappresentazione. Quindi vuol dire che il mondo inteso numericamente, inteso come volontà, non ha delle differenze individuali. Tutti noi siamo volontà, non esiste nient'altro che la volontà. Per cui, quando noi analizziamo il mondo come rappresentazione, analizziamo il mondo come composto da individui, che sono i singoli fenomeni, quindi parliamo di fenomeni al plurale. Ma se analizziamo il mondo come volontà, parliamo in realtà di un unico mondo in cui non esistono individui, ma esiste semplicemente la volontà. Quindi vi è solo la volontà. Di conseguenza noi parliamo di numero al singolare. Mi seguite? Nel mondo della rappresentazione vince il principio di individuazione, quindi vince la pluralità tra ciò che esiste. Nel mondo noumenico invece vince solamente l'unicità della volontà. Non esiste nient'altro che questa. So che può sembrare strano da comprendere questa cosa. E in effetti nella volontà di Schopenhauer risuonano ad esempio le riflessioni tipiche di Parmende sull'essere nella filosofia antica. Ecco, forse questo è un altro collegamento ancora di Schopenhauer con la filosofia antica. Ricordate Parmende che parlava di questo mondo dell'essere che era unico, in cui non esistevano gli individui, esisteva semplicemente un universo completamente permeato dall'essere e non c'era nient'altro oltre questo essere. Vabbè, insomma, al di là di Parmende. Quali sono i caratteri della volontà secondo Schopenhauer? Allora, i caratteri della volontà sono i seguenti, molto semplici. La volontà è inconscia. Questo è molto importante. Quando noi utilizziamo il termine volontà siamo spesso portati a intendere la volontà come se fosse una volontà di una persona, ma di un qualcuno, di una coscienza. Non è così. La volontà non va intesa come una sorta di super persona, super dio che sta da qualche parte e che volontariamente e consciamente prende delle decisioni. No, la volontà è completamente inconscia. È un'energia o impulso primordiale che è del tutto cieco da questo punto di vista. La volontà è unica perché è al di là del principio di individuazione, quindi non c'è una molteplicità. Non c'è qualcos'altro rispetto alla volontà. C'è solo la volontà. Noi siamo parte integrante di questa volontà che è tutto ciò che esiste. La volontà è eterna, è indistruttibile e la volontà è una forza libera e cieca. Che significa? Significa che in quanto energia incausata, cioè non prodotta da nulla, agisce senza un perché e senza uno scopo. Non ha alcuna meta oltre se stessa. Pensateci a questa cosa. Schopenhauer lo dice. Io posso chiedere a un individuo perché voglia questo o quello, ma non posso chiedergli perché voglia qualcosa in generale. Vedete? Nel nostro corpo si annidano delle voglie. Le voglie di volta in volta si ancorano agli elementi, al voluto, a ciò che noi vogliamo, a ciò che desideriamo. Ma quella voglia che è a monte di una meta, che è a monte di una destinazione, quella volere, quella volontà, quella voglia di volere per così dire, da che cosa è causata? È incausata, è ingenerata, è un qualcosa di eterno, indistruttibile, è l'energia profonda che anima il nostro corpo. Da questo punto di vista la volontà di vivere non ha altra meta oltre se stessa. Che cosa vuole la vita? La vita vuole se stessa, non vuole nient'altro, secondo Schopenhauer, perché la volontà è volontà di vivere. Le mete di volta in volta sono mete momentane, mete che possono essere tranquillamente sostituite. Da questo orizzonte di Schopenhauer ovviamente è del tutto escluso Dio. Non ha senso parlare di Dio da questo punto di vista. L'unico assoluto, l'unico elemento realmente eterno è la volontà e noi siamo parte integrante di questa volontà, al di là delle rappresentazioni e delle illusioni. Perché crediamo che ci sia Dio? Perché a volte abbiamo bisogno di illuderci che la vita abbia un senso, che questo senso sia un qualcosa di ulteriore rispetto alla vita stessa, ma non è così. Cominciamo a vedere che la reazione ad Hegel comporta spesso anche una negazione vehemente, molto forte, delle idee di Dio come ci sono state tramandate fino a questo momento. Va bene? Ok. Ci fermiamo qui con questa lezione, questa è la volontà di vivere secondo Schopenhauer. Il prossimo video sarà dedicato invece al tema del pessimismo. Grazie. Grazie. Grazie.